Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre, Notte Horror. 5 novembre, Cortometraggi. 6 novembre, Videoclip, Animazione e Documentari. Dal 4 al 6 novembre, Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Ghezzi, buongiorno. Ci vediamo nel mese di ottobre, dopo qualche settimana di assenza, perlomeno dagli schermi di occhio pavese. Sono stati sicuramente delle settimane e dei mesi molto caldi. Che opinione si è fatto sui temi principali delle ultime settimane, di cui abbiamo parlato anche sulla stampa locale? Grazie di essere tornati qui da noi. In effetti è da giugno, fine giugno-luglio, che non ci incontriamo più. Ma sono stati mesi importanti per la città e per il territorio, con segnali non sempre positivi. Il fatto più rilevante, quello che ci ha toccato più da vicino, riguarda i 160 licenziamenti della Camera. Sapevamo da maggio, e già da allora avevamo avvisato il Ministero che qualche cosa poteva succedere, e in effetti poi a settembre la società ha denunciato un esubero di 160 lavoratori. Si è iniziato un percorso molto molto veloce, devo dire, riuscendo a, da parte del Partito Democratico, riuscendo a collegare molto bene il territorio vogherese con i parlamentari a Roma. E nel giro di una decina di giorni si è riusciti a portare al tavolo della discussione il periodo del Ministero dell'Economia. Tant'è vero che gli esuberi, che all'inizio erano a 160, nell'ultimo incontro di venerdì l'azienda li ha ridotti, se non sbaglio, a 90. Quindi è importantissimo questo fatto perché c'è l'apertura di una trattativa che prima sembrava impossibile. Credo che per Natale la questione debba essere in ogni caso risolta. E noi ci auguriamo, e stiamo lavorando a fianco delle dipendenze, a fianco dei lavoratori della Cameron, perché i licenziamenti vengano tutti ritirati. Gli ultimi segnali sono positivi perché al di là dell'andamento del mercato del gas e dell'olio, e quindi del petrolio, pare che riprendano le commesse sullo stabilimento vogherese della Cameron. La ripresa delle commesse significa la ripresa del lavoro. Ricordo che la Cameron è la realtà industriale più importante di Voghera. Ha con 600 dipendenti e con un indotto di circa 250-300 persone. Quindi sono quasi mille famiglie che ruotano, il cui reddito ruota intorno alla Cameron. È la cosa per noi fondamentale. Quindi noi lavoreremo e anche noi a fianco loro non abbiamo mai mollato. E vediamo cosa succede. Siamo molto molto vigili. Sono state settimane in cui si è parlato molto anche delle elezioni provinciali. Vittorio Poma è diventato presidente di Area Vasta. Qual è il suo bilancio per quanto riguarda il PD e il centro-sinistra? Quindi passiamo alla politica. Io rilevo due fatti importantissimi. Uno territoriale e provinciale, che attiene la sconfitta del centro-destra alle elezioni provinciali che hanno portato Vittorio Poma ad allearsi con il centro-sinistra e a portare la provincia, a mantenere la provincia nell'ambito di centro-sinistra. È soprattutto una sconfitta del centro-destra. Ed è una sconfitta del coordinatore provinciale di centro-destra, che è il vogherese Carlo Barbieri. Barbieri non solo perde la provincia, ma per la prima volta da quando c'è questa istituzione nessun candidato di Forza Italia dell'Oltrepo è presente in Consiglio provinciale. Tant'è vero che è stato contestato anche all'interno del suo partito. Questo è il primo aspetto. E i benefici della nuova amministrazione credo che si facciano sentire su Voghera a breve, perché ci sono un paio di progetti importanti che riguardano le scuole, che riguardano l'ambiente sui quali la provincia ha messo gli occhi. Lo vedremo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece la politica locale registro due fatti importanti. La prima è un'intervista del coordinatore locale di Forza Italia, rilasciata l'11 agosto alla provincia pavese, che sostiene e che contesta di fatto la strategia di Carlo Barbieri, la strategia regale di Carlo Barbieri. Il coordinatore locale sostiene infatti che lui sarebbe andato subito alle elezioni, non avrebbe inchiodato la città per un anno e mezzo al commissario. Il secondo elemento è la incriminazione da parte del giudice delle istanze preliminari di Roma, del GIP di Roma, di Barbieri per corruzione. La prima seduta è il 21 dicembre. Ci sono quindi questi due fatti importanti che riguardano il mio avversario politico. Da una parte viene contestato dalla leadership locale e possiamo andare a rivedere, perché le parole sono inequivocabili. dall'altra parte perde le elezioni provinciali e poi ancora c'è questa disavventura giudiziaria su quale noi non faremo campagna elettorale ma che peserà indiscutibilmente, perché il confronto sarà tra un candidato che non ha nessun carico pendente e un candidato invece che è incriminato per corruzione. E' singolare oltretutto la difesa di Barbieri che sostiene che io faccio campagna elettorale su un fatto privato. E lo ripete questo. Quindi per lui questo crimine che deve essere evidentemente ancora approvato per la carità, noi siamo garantiste, quindi saranno i giudici a decidere se sarà colpevole o innocente. Non sicuramente spetta a me neanche il Partito Democratico e la lista civica. Però il sostenere che un elemento corruttivo è un fatto privato e quindi nella sostanza Barbieri dice che lui fino alle 6 fa il sindaco, poi dalle 6 in avanti può commettere qualsiasi atto contro la legge e questo non deve toccare la campagna elettorale. Mi sembra una posizione assolutamente paradossale e non condividibile. Quindi che una figura pubblica può commettere crimini nel privato e non essere giudicato. È chiaro che noi contestiamo assolutamente queste impostazioni. A proposito di quello che ha dichiarato Rocca in merito al fatto che Barbieri avrebbe inchiodato la città, proprio ieri Barbieri nel corso di una conferenza stampa ha definito lei Pinocchio, perché è autore di numerose bugie nei confronti dei cittadini, e l'ha accusata invece di aver inchiodato la città, perché avrebbe avuto diverse possibilità di mandare i cittadini al voto al più presto, invece lei non ha agito in tal senso. Cosa risponde a queste affermazioni? Ma rispondo con i fatti. Adesso riprenderemo questo aspetto, perché ci sono accuse reciproche di menzogne tra me e Barbieri. sugli aspetti legali direi che è inequivocabile la sua strategia. Poteva da subito non ricorrere al Tar e quindi chiedere il riconteggio. Non l'ha fatto. Ha dichiarato a fine febbraio, se non ricordo male, e ci sono le sue dichiarazioni sul giornale, che non avrebbe fatto ricorso al Consiglio di Stato tant'è vero che siamo nella situazione per cui la data delle elezioni non è ancora stata decisa, perché Barbieri può ancora ricorrere in Cassazione e ha tempo fino al 29 novembre per ricorrere in Cassazione e quindi il Ministero e la Prefettura non possono dichiarare la data delle elezioni finché la sentenza non diventa definitiva. Quindi non ci sono storie, insomma. E ha tentato con delle guazzabugli legali di fermare la verità e non ce l'ha fatta. Parliamo di SM, che è un argomento sicuramente molto amato, addirittura forse un po' abusato, perlomeno da voi candidati. Ieri nel corso di questa conferenza stampa Barbieri l'ha accusata di aver fatto un'offerta folle per l'acquisizione di SM in passato in quanto direttore generale di Linea Più e in un qualche modo ha fatto intendere che nel caso dovesse diventare sindaco lei sarebbe il primo a comprarla, cioè a venderla per poi acquistarla. Cosa ne pensa di questa dichiarazione? Beh, allora, c'è una battuta molto, molto, come dire, infelice da parte sua, probabilmente è confuso. Il dottor Barbieri ritiene che una volta, almeno così dice, che una volta diventato sindaco io comprerei la società. Allora, io non so come faccio a comprare la società, hanno volte diventato sindaco, nel senso che comprerò il Duomo e forse la Chiesa Rosso, quindi probabilmente voleva dire vendere, no? E l'altro aspetto della sua conferenza stampa che è assolutamente, come dire, legato ad un errore, è troppo precipitoso, un po' nervoso, dice che io sono ancora il direttore generale di Linea Più, non lavoro più in Linea Più dal 2014, quindi dal febbraio 2014, da 14, quindi due anni fa. La mia in Linea Più è stata una posizione da manager, io ero il direttore generale, non ero il proprietario di Linea Più. Il proprietario di Linea Più, così come il proprietario di ASM, sono i sindaci che esprimono la proprietà pubblica della città. Ci sono documenti a tonnellate, centinaia di pagine scritte, delibere del Consiglio di amministrazione di ASM e Voghera, lo ripeto, possiamo andarle a recuperare tranquillamente, sono atti pubblici che chiedevano ad una società pubblica come Linea Più, che aveva la sede legale a Pavia, di dare una mano ad ASM e quindi di portare i clienti di ASM dentro Linea Più. Questo significava un passaggio di quote dal comune di Voghera a Linea Più, che aveva come soci i comuni di Pavia, di Crema, di Cremona e di Lodi, e una parte di Cogemi di Brescia. Quindi c'era un trasferimento di società, indubbiamente, da una società pubblica ad un'altra società pubblica. e da ASM si mosse in questa direzione solo ed esclusivamente dietro l'indicazione del sindaco, perché non può in maniera autonoma decidere di vendere la società più importante del gruppo. Io sono disposto ad un confronto pubblico con Barbieri, poi forse lui non lo vorrà fare. Facciamo l'elenco di questi atti, vediamo le firme, incontriamo i protagonisti e decidiamo. Se la sentirebbe di dire pubblicamente adesso, in questo momento, la stessa cosa che dice Barbieri, che pare tranquillizzare i cittadini, cioè ASM non si vende. Non è mai stato, non è possibile venderla, non voglio venderla, non mi interessa venderla. A noi interessa rendere ASM una società pubblica, locale, ancora più forte. è impegnata in un progetto gigantesco, che è quello di portare la raccolta differenziata dal 30% al 65%. ASM ha sofferto molto della gestione Barbieri. sulla raccolta differenziata è il fanalino di coda della Lombardia e probabilmente dell'Alta Italia, quindi dobbiamo rilanciare la società, non venderla. Barbieri ieri ha ricordato che Alessandra Bazzardi, segretario cittadino del Partito Democratico, lo ha accusato di passare troppe giornate in ufficio, mentre il vostro essere in mezzo alla strada con i cittadini è in realtà una finta, una finta che serve ovviamente per poi attirare voti, attirare consensi. Cosa risponde a queste informazioni? È paradossale anche questo, perché il compito di un politico è quello di stare vicino alla gente, di starci in mezzo, di ascoltarli e non di chiudersi nei propri uffici in piazza del Duomo. Questo è quello che farò io come sindaco, se sarò eletto. E questo è quello che ho fatto da due anni a questa parte. Fuori, a suonare i campanelli, ad incontrare le persone, a capire quali sono i loro problemi. Noi riteniamo che il questionario sia uno strumento di grande democrazia, è libero, è anonimo, è costruito insieme agli elettori e ai cittadini vogheresi e ci dà un sacco di indicazioni. Sono indicazioni che faranno parte del nostro programma. Noi faremo un programma che ha alcuni principi generali, che sono quelli del programma del 2015 ed è stato depositato in Consiglio Comunale come prevede la legge, quindi la difesa del territorio, molta attenzione al welfare, l'ospedale di Voghera come un elemento fondamentale di salute pubblica, la sicurezza. Il centrosinistra ha un rapporto così stretto come quello che Barbieri e il centrodestra sostengono di avere con l'azienda ospedaliera locale? Barbieri, ma non da adesso, quando parla di ospedale parla sempre di amicizie. era amico del direttore generale precedente, la dottoressa Troiano, che ha combinato dei disastri nell'arrabili e sostiene di essere amico dell'attuale direttore generale Bright. Questo è un altro elemento di lettura della democrazia molto pericoloso. Può benissimo essere amico del direttore generale di un'istituzione, il sindaco, ci mancherebbe altro e se amico lo è, lo può incontrare e può coltivare la sua amicizia. Ma il rapporto non è un rapporto personale, è un rapporto istituzionale tra il sindaco da una parte e il direttore generale di un'istituzione dall'altra, che non può sicuramente muoversi in una logica di preferenza verso gli amici, ma deve muoversi in una logica istituzionale di attenzione alla cittadinanza nella sua interezza, assolutamente. noi siamo stati ricevuti, noi abbiamo chiesto il consigliere Gallotti che per il PD della lista civica si occupa di sanità e io stesso siamo stati ricevuti dal direttore Bright e abbiamo con lui convenuto di rapportarci una volta definito il piano di organizzazione degli ospedali della città di Vogueira e dell'Oltrepo e andiamo in quella direzione indipendentemente dall'amicizia o no. I cittadini devono essere curati indipendentemente dal fatto che Barbieri sia amico del direttore generale dell'Ara, devono essere curati perché hanno bisogno di questo servizio. Quindi per concludere tornando ai temi di cui stava parlando prima che sono emersi proprio dal vostro confronto con i cittadini? Ah, i temi più importanti sono quelli, allora, sono i temi della sicurezza, sono i temi di una condizione della città di abbandono, voglio ricordare per esempio la protesta che abbiamo fatto in strada grippina dove le macchine sfrecciano a cento all'ora c'è stato un morto per cinque anni hanno protestato non sono riusciti a venirne a capo la giunta si è dimenticata di loro dopo la nostra protesta il comune ha deciso e siamo sicuri che lo fa che a febbraio metterà tre dossi c'è una situazione dei parchi pubblici da vedere consiglio anche a voi di Giab TV di fare una intervista ai cittadini che vorrebbero utilizzare il parco pubblico di San Vittorio oppure il parco pubblico di Medassino chiedo Barbieri di andare a vedere il parco pubblico del quartiere est dietro Ponte Rosso ci sono erbe alte un metro insomma questi sono i servizi che i cittadini richiedono non ci chiedono investimenti da milioni di euro ci chiedono di cambiare le luci nella città ci chiedono di spostare i cassonetti ci chiedono di avere i servizi di base e di vivere degnitosamente e noi su questo faremo la nostra battaglia grazie grazie a lei a presto